Stamattina Pordenone si è svegliata con una speciale scena del crimine, in Piazzetta Cavour, un'installazione che lancia in città la campagna nazionale di sensibilizzazione per combattere l'abbandono dei piccoli rifiuti. L'edizione 2022 di Piccoli Gesti, Grandi Crimini, il cui progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con Battitalia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Comune di Pordenone, è stata presentata stamattina in conferenza stampa con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sulle gravi conseguenze dell'abbandono nell'ambiente di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti. Il titolo bellissimo Piccoli Gesti, Grandi Crimini, proprio i piccoli gesti aiutano a far sì che tutti noi possiamo essere parte di un cambiamento, di un'attenzione maggiore verso i rifiuti e verso le conseguenze appunto dei nostri gesti. In città una scena del crimine con le sagome intorno di animali morti perché il mozzicone, anche quello gettato qui, gettato nel bagno, gettato nella caditoia, finisce in mare. I numeri sono veramente impressionanti, miliardi all'anno di mozziconi che finiscono nel mare. La campagna mira la sensibilizzazione, verranno distribuiti 2000 di questi piccoli portaceneri dove poter mettere il mozzicone, metterlo in tasca e poi conferirlo nel posto giusto. Come amministrazione adesso provvederemo anche all'acquisto di alcuni cestini particolari finalizzati solo alle sigarette e tutti insieme qualcosa possiamo fare per questo nostro mondo. Parecchi comuni hanno aderito a questa campagna che è molto importante perché i mozziconi rappresentano il problema delle microplastiche. Le microplastiche ormai le abbiamo trovate ovunque, dall'Everest alla Fossa delle Marianne, nella placenta umana, nel sangue e dunque vanno combattute, va combattuta la dispersione di microplastiche o di oggetti piccoli di plastica perché non sono più ripulibili, cioè non possiamo ripulire le microplastiche. Dobbiamo evitare di disperderle nell'ambiente, di inquinare il nostro mare e di rendere la vita molto difficile agli animali marini e a tutta la natura che ci circonda. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso una nuova sensibilità e quindi una nuova cultura. Ecco perché come assessore alla cultura, con delega anche alle politiche giovanili, ho partecipato a questa campagna. Sono convinto che servano strumenti comunicativi efficaci, bene le conferenze, bene i convegni, però per riuscire a colpire, per riuscire a far passare il messaggio, ci vogliono strumenti comunicativi nuovi e sicuramente questa campagna alle mie spalle è efficace. Facciamo in modo che Pordenone dia il suo pur piccolo contributo per fare in modo che i mozziconi di sigaretta non finiscano in mare e poi magari come succede nei nostri piatti.